Questo è il finale dell'Arcade di Mortal Kombat 1. Il personaggio giocabile e il personaggio cameo stanno picchiando a sangue gli stregoni Shang Tsung e Quan Chi. Ora danno il colpo finale a questi due. Bene, ora potete godervi il finale del personaggio giocabile. Vi saluto, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace. Arrivederci, io sono Gabri Costa.